Ciao, un abbraccio. Ciao ciao. Che sei? Come? Bene? Tutto bene. Allora, forse... Buona partita. Dai, ti aspettiamo a San Siro. Buona sera. Ciao. Ciao. Riccardo, ciao. Ciao. Ciao a tutti, buona partita. Ciao Riccardo. Ciao Riccardo. Ciao. Riccardo, come stai? Tutto bene? Tutto bene. Vuoi guardare la partita? Sì. Dai, speriamo di vincere. Un abbraccio. Bocca al lupo. Grazie mille.